ok eccoci tornati perfetto ok allora spero che abbiate avuto sufficiente tempo per la pausa so che non ne facciamo tantissimo non ne mettiamo tantissimo di tempo per la pausa ma diciamo dovendo fare tutto live avendo poco feedback è difficile regolarsi quindi direi che possiamo quindi continuare se c'è qualcosa scrivete su Slack mi raccomando e vediamo l'ultimo argomento di questa mattina che in realtà è un argomento abbastanza importante anzi importantissimo mi avrebbe da dire perché insieme con la gestione dello Stato è ciò che riesce a far funzionare le vostre applicazioni web quindi abbiamo bisogno di capire bene tutto questo meccanismo sono una trentina di slide circa e poi mano a mano che andiamo avanti se abbiamo tempo facciamo anche qualche prova appunto con il meccanismo di applicazione web più server nella configurazione che abbiamo descritto nella ora e mezza precedente e quindi react development server server web col proxy che gira le richieste che non sa gestire all'altro server a quello express ok bene life cycle quindi ciclo di vita dei componenti il sottotitolo dice appunto c'è vita prima e dopo il return del JSX che è quello che usiamo noi nei componenti di tipo function nei componenti di tipo function scriviamo una sola cosa una funzione che prende le process e ritorna dal JSX però react fa tante altre cose prima e dopo quindi dobbiamo capire queste cose per poterci inserire nel punto giusto e andare a fare le operazioni che sono richieste in un'applicazione web per esempio banalmente la più semplice possibile che ci serve in un'applicazione web è caricare dei dati da una fonte esterna dal nostro server tabella dei voti qualcuno deve darci voti tabella dei task qualcuno deve darci task quindi contesto c'è l'azione di render che è la più importante per un componente infatti il componente è per noi una funzione che ritorna ciò che deve fare nel caso di render cioè quel JSX che scriviamo che è ciò che rappresenta il componente comunque è anche utile molto utile poter gestire personalizzare ciò che avviene in diversi momenti dell'evoluzione del componente ci sono tre momenti nell'evoluzione del componente che sono importanti quando il componente inizia ad esistere quindi la fase cosiddetta di mount si monta cioè si attacca nell'albero del virtual DOM cioè react lo crea lo fa esistere lo attacca da qualche parte del virtual DOM che poi diventa ovviamente il DOM reale quindi verrà visualizzato secondo cosa abbiamo detto di fare ci sono le fasi di re-render che sono quindi degli aggiornamenti perché il componente aggiorna quello che fa vedere sulla base delle informazioni che riceve in particolare le props che riceve come parametro della funzione che ritorna al JSX e lo stato che recupera tramite look dello stato che abbiamo visto le altre volte quando succede la fase di updating quando react decide che è il caso di fare il re-render e abbiamo detto quando cambiano le props quando cambia lo stato ok e poi e poi c'è la terza e ultima fase che è la fase diciamo di unmounting cioè di distruzione quando react decide che non serve più lo prende lo distrugge lo tira via dal virtual DOM e lo elimina ok quindi all'inizio siamo nella fase iniziale di questa macchina stati in cui il componente esiste poi una volta che ha fatto il primo render si ci si sposta nella fase diciamo in cui si può restare più volte questa freccia che ritorna su se stessa è la fase in cui si resta più volte cioè si deve rifare render fin quando altri aggiornamenti non decideranno che quel componente non serve più quindi non sarà più nella catena di return che lo usano quindi non sarà più ritornato in un pezzo di JSX quindi potrà essere tirato via dal virtual DOM no? quindi queste sono le tre fasi del componente quindi eventi che si verificano durante la ciclo di vita del componente esisto mi aggiorno e smetto di esistere ok volendolo vedere in maniera un po' più schematica all'inizio quindi queste sono le tre fasi nel tempo direzione verticale dall'alto in basso quando inizia a esistere viene chiamata la funzione che mi ritorna il JSX che mi dà il mio componente poi e poi c'è React la parte sotto è React questa azzurra eh no scusate bianca azzurra è sopra il mio codice sotto c'è React React cosa fa quando ottiene il JSX aggiorna il suo DOM il virtual DOM poi il DOM eccetera la cosiddetta fase di commit e poi e poi è disponibile a chiamare nostre funzioni che noi abbiamo però preventivamente registrato con un apposito hook vedremo noi oggi parleremo di questo hook use effect che viene chiamato a questo punto cioè dopo che è stato fatto render all'inizio o dopo perché si è scatenata la necessità di rifare il render oppure alla fine ovviamente se lo voglio togliere non è che viene fatto un ulteriore render qui non c'è alcun render però prima di buttarlo via mi viene ancora chiamato qualcosa che ho registrato come callback se è necessario fare qualcosa per esempio devo ripulire qualcosa devo sganciare qualcosa devo diciamo liberare delle risorse bene React sa che non è bene fare creare dei leak ma se le risorse le ho allocate io come programmatore tramite una qualche funzione dovrò poi fornire una funzione che fa la pulizia React non è che può pulire tutto quanto da solo pulisce quello che ha a che fare col DOM il virtual DOM eccetera ma ciò che ho creato io devo pulirlo io ok quindi oggi sostanzialmente parliamo di side effects quindi effetti collaterali dei componenti tipo funzione sapete che abbiamo detto che volevamo i componenti tipo funzione perché sono semplici a fronte degli stessi parametri di ingresso producono lo stesso risultato questo è proprio uno degli aspetti forti di React React è stato pensato per cercare di semplificare la programmazione delle applicazioni web come? facendo in modo che ciò che viene prodotto a livello di visualizzazione sia deterministico solo funzione di quello che diamo in ingresso properties e però ci aggiungiamo anche poi lo stato se però dobbiamo fare e nelle applicazioni reali dovremo fare delle operazioni che producono degli effetti collaterali quindi che non sono nella logica delle funzioni pure come sarebbero le funzioni che determinano cosa fanno i componenti come facciamo? questi sono effetti collaterali cioè io eseguo la funzione una volta e questa va bene mi dà il mio jsx però ho fatto anche una cosa al di fuori del darmi semplicemente il jsx e questa può essere una cosa permanente può essere una cosa che ha degli effetti secondari addizionali esempi di queste cose diciamo che l'esempio più classico è caricare dei dati cioè io si esegue una funzione e dico di caricare dei dati e questa operazione di caricamento dei dati è un effetto collaterale perché non sono restituiti con return il return è solo il jsx questi dati verranno messi da qualche parte se io riesengo la funzione ricarico i dati oppure non li ricarico non lo so cosa succederà sono effetti collaterali a fronte dello stesso input sulla funzione succedono cose diverse al di fuori della funzione stessa ed è per questo tra l'altro che voglio tenerli al di fuori della funzione però voglio avere una maniera di gestirli altri esempi bene registrare un log il banale console log ma anche aggiungere una riga in un file di log e ogni volta che eseguo una funzione aggiungo una riga quindi è un effetto collaterale non è che il risultato è sempre lo stesso perché la riga avrà magari altre indicazioni l'ora cambia e così via oppure fare una subscription a qualcosa a agganciare con degli andra qualche evento se lo faccio magari voglio farlo una volta non posso farlo tutte le volte sono tutti effetti collaterali che devo poter gestire in maniera adatta alla mia applicazione schiedulare delle azioni quando alcuni stati cambiano alcuni valori di stati cambiano e questa è un'altra cosa che capiterà frequentemente cambiare manualmente il DOM ma diciamo che questo cerchiamo di evitarlo in generale proprio come filosofia del nostro modo di programmare l'applicazione web gestire dei timeout e dei timer ecco questo può essere frequente nel senso che se vogliamo qualcosa che si aggiorna automaticamente dopo un po' ovviamente dobbiamo gestire un timer o un timeout e sono tutti effetti collaterali perché impostiamo qualcosa che diciamo succederà in un momento successivo o esterno a quando gira la funzione del nostro componente il rendering e tutta la logica che produce effetti collaterali sono e devono essere mantenuti in maniera indipendente sarebbe un errore come si dice appunto lì eseguire delle operazioni che producono dei side effect quindi degli effetti collaterali direttamente nel body del componente cioè nella funzione che alla fine ci ritorna il jsx perché perché non sarebbe più una funzione pura e allora come facciamo cioè abbiamo detto che vogliamo mantenere la funzione pura però abbiamo bisogno di queste cose perché il caricamento dei dati lo dobbiamo fare dove lo mettiamo e come facciamo a gestirlo con react dunque non lo possiamo fare in questa parte azzurra di sopra che è la fase di render dove viene eseguita la funzione che determina l'aspetto del componente quindi no side effects qui non possiamo farlo non vogliamo che sia fatto secondo la filosofia di react e quindi ci resta solo un altro posto che è quello di sotto possiamo dire di eseguire delle operazioni che producono dei side effects degli effetti collaterali dopo che react ha fatto le sue operazioni di aggiornamento quindi aggiorna su virtual DOM aggiorna il DOM e poi possiamo far girare il codice che produce effetti collaterali come facciamo a dare questo codice a react da far funzionare dopo che diciamo ha girato la funzione del nostro componente quindi la funzione che ci ha ritornato il nostro JSX abbiamo un'ucca apposta use effect gli altri diciamo vabbè c'è lo use state quello l'abbiamo visto però gli altri diciamo li nominiamo e basta non li useremo in questo corso perché sono un po' più complicati e un po' più per casi particolari soprattutto e e quindi adesso andiamo a vedere come usare questo use effect che è abbastanza complicato per cui ci spendiamo sopra tutto il resto di questa mattina però è il modo con cui introdurre correttamente gli effetti collaterali in in react quindi react ci dà una maniera per far girare del codice al punto corretto quindi non dentro il componente ma dopo dopo che è stato aggiornato il virtual DOM e il DOM e dobbiamo imparare semplicemente come usare questo hook ok quindi adesso parliamo di questo hook che si chiama use effect proprio perché si tratta di side effects noi non vogliamo avere side effects nelle funzioni che fanno render quindi anche solo scrivere una cosa così console.log sarebbe sbagliato no perché ma perché se usiamo un side effect se abbiamo un side effect nella funzione di render non sappiamo mai quando viene eseguito perché lo decide react quando eseguire la funzione che determina cosa fa il nostro componente quindi gsx che in questo caso con il messaggio no e questo side effect che in questo caso appunto è questo log sulla console vabbè è una stampa viene fuori quando react decide di fare rendering e che è fuori dal nostro controllo ok il rendering è sotto il controllo di react per cui non ci va bene avere un effetto collaterale in quel punto lì poi ok qui lo dico e qui lo nego è chiaro che fare un po' di debug vedere cosa succede eccetera potete mettere un console log non è che react si blocchi però adesso è un console log per vedere cosa sta succedendo stiamo imparando va bene ma se lì ci mettete il caricamento dei dati non andrà più bene perché perché non si sa più quando i dati verranno caricati quando gira questa funzione che fa che decide come fare il render del componente perché questa cosa è sotto il controllo di react noi vogliamo che le operazioni che sono degli effetti collaterali e quindi che sono vanno a caricare i dati e vanno a come dicevamo prima vanno a modificare vanno a stabilire dei time out vanno a vogliono essere fatte funzionare quando cambiano dei valori eccetera girino solamente quando decidiamo noi noi perché programmiamo non quando react decide di fare render per qualche motivo tra l'altro il render può essere interrotto da parte di react per qualsiasi motivo fatto rigirare per qualsiasi motivo e così via quindi non ci va bene che lo decida reale come facciamo useremo appunto questa use effect questo sarebbe la maniera corretta use effect non fa girare immediatamente il codice use effect prende una callback adesso ne parliamo bene ecco con calma vediamo tutti i parametri tutte le modalità d'uso però prende una callback da far girare poi dopo più una lista di dipendenze insomma adesso ne parliamo e quindi girerà dopo il render noi nel render abbiamo semplicemente detto guarda c'è questa callback da eseguire quando avrai finito e ogni volta che e questo dipende da cosa ci mettiamo poi nel secondo parametro della use effect sempre solo all'inizio eccetera ok quindi ecco potremmo potremmo provare questo esempio visto che siamo all'inizio così vi fa capire no la differenza tra scriverlo lì e scriverlo con la use effect poi poi parliamo nel dettaglio quindi ah vabbè facciamo che diciamo che secondo me non abbiamo il tempo di scrivere tutto il codice quindi io ve lo prendiamo già fatto eh io l'avevo riluminato ma diciamo che ok usiamo il nostro grit lo mettiamo qui dentro eh direi che possiamo farlo in questa maniera eh grit dunque prendevo un parametro una props name enric chiuso ok devo solo importare si era importato questo mi è scappato mi troppo ok quindi salviamo vabbè grit bad ah e no ecco proviamo prima col grit bad ok ah import ah ecco perché c'era perché poi ho fatto grit bad from è una semplicissima componente che è quello che avete visto sulle slide dovrebbe essere a posto gritt definisce grit bad ah mi hanno esportato solo uno vabbè così ripassiamo un po' intanto grit bad e perché di là vabbè certe cose sono un po' noiose dopo ok va bene c'è poi un warning sulla use effect ma ovviamente non possiamo leggerla adesso perché altrimenti non capiamo nulla dunque io sto usando grit bad che è quello che abbiamo visto sulle slide no quindi ci fa console log greetings enrico che è props name che gli ho passato hello enrico è quello che viene fuori sull'applicazione proviamola quindi hello enrico c'è ok apriamo la console ok io adesso ricarico ok vabbè a parte la di warning è uscito fuori hello enrico ok e se però devo ridisegnare la mia applicazione mi uscirà fuori fuori di nuovo un'altra volta hello enrico quindi se perché perché quando react decide di chiamare grit grit bad mi esce di nuovo fuori hello enrico quindi se invece io la faccio come scritto qui sotto la garanzia che uscirà fuori sempre solo la prima volta in fase di mount all'inizio del componente quindi app ci mettiamo grit ok grit is not defined no vorrebbe essere a grit è bello è bello scrivere il codice live ma poi finisce sempre che c'è qualcosa ok diciamo dal punto di vista dal punto di vista del di cosa è successo sembra la stessa cosa no perché in realtà qui la funzione che ha fatto il render è stata chiamata una sola volta da react ma prima è stata chiamata mentre veniva fatto il render no quindi in grit bad era mentre veniva fatto il render quindi ha creato un effetto collaterale perché se io la chiamava se era react per qualche motivo aveva bisogno di fare due volte il render perché perché motivi suoi mi venivano fuori due console log nel secondo caso invece come funziona la use effect adesso la vedremo era fuori il messaggio il console log l'effetto collaterale solamente una sola volta indipendentemente da quello che farà react ok e in più avrà girato dopo il render mentre qui il console log viene fuori durante il render perché non è bene ok questo è un esempio veramente banale quindi è inutile stare a discutere più di tanto vediamo come funziona l'api la effect la use effect perché è quello che ci interessa la use effect prende due parametri il secondo è opzionale il primo è che cosa fare che codice eseguire quindi una callback tanto per cambiare secondo parametro opzionale un array di dipendenze che può anche essere vuoto come avete appena visto nell'esempio può anche essere omesso che è un'altra possibilità che è ancora diversa oppure può avere una serie di variabili che sono le dipendenze e cioè quando dovrà girare la callback ma adesso lo diciamo bene quindi use effect esegue il codice della funzione callback dopo che react ha fatto il commit dei cambiamenti sullo schermo ci ha modificato il virtual DOM e il DOM come vedevamo qui use effect gira a questo punto dopo che è stata fatta la modifica sul virtual DOM e DOM ok e questo array di dipendenze è opzionale use effect esegue la callback solamente se almeno una delle dipendenze è stata cambiata tra un render e l'altro quindi qualcuno ha cambiato il valore di una delle dipendenze queste sono tipicamente o le props o gli stati ok vediamo degli esempi ovviamente tutto il resto delle slide sono esempi su queste cose ci sono tre casi che possono verificarsi con l'array delle dipendenze cioè il secondo parametro è opzionale quindi non lo fornisco la callback viene chiamata ad ogni render ma non è come scrivere il console.log nel render perché questo viene scritto quando la funzione è chiamata la useEffect la chiama dopo che il render è stato messo sullo schermo ok quindi in una fase successiva un array empty vuoto come abbiamo visto nell'esempio la callback gira una volta solo dopo il rendering iniziale cioè diciamo dopo il mount del componente quella fase iniziale di cui parlavamo se invece nell'array scrivo dei valori se più che dei valori do dei riferimenti che sono le variabili tipicamente le props o gli stati la callback viene chiamata solamente quando una qualsiasi o più di queste cambia ok quindi react traccia i cambiamenti di queste variabili e se qualcosa cambia chiama la callback quindi tre possibili modi di funzionamento sulla base dell'array delle dipendenze quindi qui vediamo un esempio non mettiamo il parametro quindi non c'è virgola aperta e chiusa quadra ciò che scriviamo dentro come callback vedete che è una callback una row function questo che scriviamo dentro girerà sarà fatto girare da react ogni volta dopo il rendering del componente dopo ogni render del componente caso 2 scriviamo con la quadra ciò che scriviamo qui girerà un'unica volta dopo il rendering iniziale caso 3 ciò che scriviamo qui gira all'inizio dopo rendering iniziale più ogni volta che cambia o prop o state cioè quello che scriviamo qui nell'array qui ce ne sono due ma possono essercene più di più in realtà a dire la verità si mettono delle variabili semplici non degli oggetti poi lo diciamo perché viene di fatto si controllano i riferimenti per vedere se sono cambiati ok quindi questi sono i tre casi d'uso della use effect ovviamente questa è la teoria dobbiamo capire nella pratica come usarli quindi esempio un normalissimo contatore count numerino con un bottoncino che in qualcuno cambia count click set num i più uno se io metto dentro count use effect con una callback adesso qui ho fatto console log per comodità avrei potuto metterlo insomma fare qualcos'altro ma l'effetto collaterale più semplice da usare è il console log il mio numero è props num che vedete che cambia perché questo è l'app che crea il componente e gli passa la proprietà num quindi avrò lo stato num che è mantenuto in app il componente di livello superiore siccome ho messo l'array vuoto questo side effect questa callback girerà una sola volta e quindi mi farà un'unica stampa del valore del primo valore che riceve quel componente se io metto props.num cioè il valore che ogni volta cambierà perché ogni volta che clicco cambia questo console log verrà fatto girare tutte le volte che si rileva che props.num cambia ok questo lo possiamo provare proviamolo quindi count in app ci portiamo il nostro count mettiamo facciamo come aveva fatto così una barra giusto per count beh facciamo il compito in colla se no perdo un sacco di te num uguale num e poi ci metto un bottoncino o un click giusto per darmi una maniera per andare avanti ok sal salvo ctrl s num is not fine giustamente perché mi serve il set num cioè questo uno stato quindi uso il mio solito hook che a questo punto dovrei sapere usare bene use state anche una use state da importare ok lasciamo perdere i warning sulla use effect perché stiamo imparando poi poi capiremo quindi count num uguale num button ci aumenta il num e in count abbiamo due use effect uno che gira solo all'inizio e l'altro che girerà ogni volta che cambia la props num ok proviamo ok va bene c'è il coso di prima ci interessa c'è tre un bottone ovviamente tutto molto grezzo è solo per fare delle prove intanto vedete che ci sono già due stampe il componente è stato montato quindi ha girato una volta il render c'è my static number 3 my dynamic number 3 quindi entrambi i pezzetti di codice hanno funzionato my static 3 my dynamic 3 ok adesso premo il bottone più sono qui qui sotto non c'è non c'è più nulla sono solo wall più 4 però lo static non gira più più 5 più 6 quindi la use effect mi fa girare il codice che io scrivo qui sotto forma di callback quindi non gira in questo momento ma gira dopo è react che si preoccupa di farmelo girare quando è variato il valore di props num rispetto al render precedente ok l'abbiamo visto in pratica trovate sulla slide successiva la timeline nel senso che questo è quello che succede esattamente per filo per segno il componente count all'inizio è creato gli viene passata la properties num uguale 3 montato sotto app quindi cosa fa react prima fase in alto quella azzurra dello schema di prima rent chiama la funzione chiama la funzione count use effect registra la callback non la esegue la registra non eseguita registrata sia la prima sia la seconda con le sue dipendenze il jsx ritorna e scrive 3 div 3 div e a schermo ci comparirà il 3 perché perché react prende fa il virtual dome fa il dome e ce lo mette a schermo a questo punto si arriva all'ultima fase è quella di quel no? qui quindi siamo passati di qua siamo arrivati a questo punto girano le callback e la use effect il componente appena stato montato la prima volta facciamo girare il primo use effect quindi console log esce fuori aesthetic number 3 il componente appena stato montato e quindi anche il secondo use effect gira perché abbiamo detto che se qui c'è l'array vuoto oppure c'è un array con delle dipendenze in entrambi i casi la prima volta girano tutti e due e quindi facciamo funzionare secondo use effect console log my dynamic number 3 a questo punto a questo punto non succede più nulla javascript attende che succeda qualcosa attendiamo input all'utente normale modo di funzionamento delle applicazioni l'utente clicca fa il più no? l'utente clicca app aggiorna il suo stato che sta in app quindi cambia la props che passa count e quindi react capisce adesso arrivo alla domanda capisce che è cambiata la props e quindi deve far rigirare il render di count quindi chiama la funzione count per sapere il risultato e quindi ottiene div4 div virtual dom dom il 4 va a schermo a questo punto il primo use effect non fa più niente perché essendo che l'array delle dipendenze è vuota abbiamo detto gira solo la prima volta non verrà mai più richiamato perché venga richiamato bisogna che il componente sia distrutto e se ne crei uno nuovo ma un nuovo componente invece qui c'è props num 4 è diverso da 3 react se ricordato il valore di props di prima non dovete fare niente 4 è diverso da 3 sì allora lo facciamo girare console.log props num 4 e avanti così c'è una domanda su slack che dice nel caso dei model nel biglab per la variabile statica la variabile statica viene considerata la visualizzazione con lo state show oppure la creazione del componente che dovrebbe avvenire all'inizio quindi questa questa qua viene creata viene considerata la visualizzazione con lo state show oppure la creazione del componente dipende no la creazione del componente dipende poi lei come ha fatto creare il componente quindi dipende da come ha scritto il jsx se ha scritto il jsx in maniera che c'è sempre il componente ma ci ha messo la property se è invisibile il componente è sempre montato ma è semplicemente invisibile se invece lei ha scritto adesso scrivo così a caso per far capire se invece lei ha scritto una roba tipo return div 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 mi ha scritto tipo show modal no giusto per capirci se mi ha scritto una cosa così il componente tutte le volte che non c'è viene distrutto perché sparisce non è più ritornato nel jsx allora tutte le volte che viene creato viene cioè tutte le volte che viene scritto nel jsx ritornato viene ricreato rimontato e quindi rigira la parte static number e quindi diciamo o meglio la callback associata all'array vuoto ok quindi dipende da come mi ha scritto il jsx se il jsx invece mi ha scritto modal se si è fatto non lo so un mostra uguale show qualcosa di questo tipo il componente è sempre lì quindi quella cosa che abbiamo messo con le quadre vuote gira solamente la prima volta che hai creato il componente ottima osservazione perché questo è una cosa da tenere presente bisogna entrare nel bene nella logica di come funziona la creazione e la distruzione in componente cioè quando vengono creati quando vengono distrutte se non capisco questo non capisco poi quando gira questo use effect un altro collega chiede avessimo messo solo props nelle quadre della use effect e la use effect non avrebbe notato il cambiamento giusto credo di no perché props è un oggetto facciamo la prova vediamo non è raccomandabile appunto fare questa cosa perché essendo un oggetto è un po' la stessa questione dello stato all'inizio funziona ma all'inizio non ci va niente a farlo funzionare adesso qui lo nota perché l'oggetto props viene ricreato però non è una buona pratica nel senso che adesso qui l'ho fatto la props se magari lo fa con qualcosa che contiene una properties che cambia ma l'oggetto non cambia poi react non non lo nota ok perché perché non può andare sempre tutti i momenti a controllare tutto perché ogni volta che fare il render deve andare a a vedere che cosa è cambiato deve avere un algoritmo veloce per farlo quindi si ferma non appena trova qualcosa di diverso c'è qualcosa di diverso bene c'è qualcosa da fare faccio il render non ho trovato diverso mi fermo ok non vado a scavare in tutto l'oggetto adesso qui si vede che il meccanismo di come funziona il componente con le props ricrea l'oggetto props quindi mettiamola a posto è bene però ma cioè come si dice indicare esplicitamente dei valori che siano dei riferimenti non a degli oggetti ma a dei come si chiama dei tipi di base di javascript quindi stringhe numeri boolean e cose di questo tipo anzi è finito perché non ci sono altre se lo faccio verso degli oggetti sto indicando dei reference e quindi devo essere sicuro che cambino ok proseguiamo poi il vostro collega sta scrivendo quando bene ecco tra l'altro pensavo estrarre le props con un meccanismo del genere costo valore 1 valore 2 valore 3 è sconsigliabile perché maschera il cambiamento della props un eventuale use effect giusto no nel senso che li estrae poi puoi scrivere valore 1 valore 2 valore 3 basta che questi non siano a loro volta oggetti e array perché se cambia la stringa nel senso cioè cambia sia che sia dentro sia che l'abbia estratta non è che certo cioè ecco quello che è importante è che poi se mi scrive quello che ha scritto lì sulla sulla chat non mi scrive più props punto valore 1 qui deve scrivere valore 1 se fa così ok però l'ha estratto e ci sta è un valore una string un numero un boolean va bene questo funziona è sconsigliabile per maschera il cambiamento della props no 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 nel senso che appunto cioè React di per sé non è che sa che lì lei ha scritto una props ha scritto uno state eccetera in JavaScript queste cose sono dei riferimenti o dei valori immediati come i numeri quindi fa il triple uguale e se sono uguali bene se non sono uguali è cambiato internamente React non sa neanche se è uno stato una props o una qualsiasi altra cosa quindi qui abbiamo messo props ok grazie per le domande mi raccomando perché appunto è proprio il nocciolo della questione capire bene tutto quanto stiamo spendendo tanto tempo sulla use effect perché è importante capirla bene ok noi sappiamo già usare un noc che è use state che è importante perché mantiene lo stato dell'applicazione vediamo di fare funzionare al meglio con la use effect può succedere che una variabile di stato sia listato come una dipendenza in un effect come una dipendenza di use effect quando questo stato cambia l'effetto viene fatto girare quindi la callback alla fine dopo il virtual dom dom viene fatta girare notate che se lo stato è aggiornato ma il valore non cambia quindi c'è lo stesso numero per dire react fa il confronto non è cambiato nulla allora va bene non ci fa girare lo use effect quindi gira se il valore è effettivamente cambiato non è che c'è stata un asset state un asset come comunque l'abbiamo chiamata con la use date e se il valore è effettivamente cambiato ecco dentro una use effect si può anche schedulare un update dello stato quindi io dentro una use effect posso scrivere set qualcosa anzi tipicamente si fa perché perché ne abbiamo bisogno per esempio per dire dopo che è finita un'azione asincrona il caricamento dei dati è proprio il classico esempio facciamo la set dello stato react a fronte della set dello stato fa girare di nuovo il render del componente che contiene lo stato e tutti i suoi figli nel caso in cui questo stato sia usato come props eccetera è proprio il meccanismo classico per far funzionare il caricamento di dati o altre cose asincrone vediamo questo esempio componente quickgate porta veloce ha un suo stato aperto chiuso open vero falso vabbè c'è una scritta go stop se ci clicco sopra una callback e fa set open va bene ok la cosa che voglio fare è che dopo un tot si chiuda da sola quindi lo stato cambi allora cosa faccio use effect una callback che cosa fa la callback esegue una set timeout nel momento in cui ho cambiato il valore di una variabile che in questo caso è la variabile che abbiamo creato con la use state quindi uno stato open e lo pone a falso dopo 500 millisecondi quindi mezzo secondo ok quindi cosa succede succederà che quickgate parte false registra la callback la prima volta viene eseguita e ci dà cosa visualizzare open sarà false e quindi verrà fuori stop ci clicco sopra viene fuori go ma gira anche dopo che ho fatto il render la callback e mi fa set timeout set open false dopo 500 millisecondi io non faccio niente dopo 500 millisecondi viene fatta una set open false cioè eseguito un cambiamento di stato si riscatena il render si esegue quindi questo pezzo e quindi verrà fuori false quindi verrà fuori stop si riregistra la callback è quando l'open è cambiato e quando cambia si farà di nuovo la false se è già false non capiterà più nulla dunque qualcuno scrive sulla chat facendo l'update di una stato da cui la use effect dipende non si rischia di creare un render infinito ecco sì questo infatti è da evitare lo diciamo dopo c'è il rischio del loop questo sì e vi verrà fuori in debug dopo che la use effect ha fatto un tot di giri a un contatore react interno che vi dice occhio guarda che hai un loop infinito probabilmente probabilmente perché non si sa mai cosa in catena può succedere però diciamo che dopo tot di render uguali fondamentalmente cioè di render sullo stesso componente a fronte di un'unica azione diciamo vi dice c'è un potenziale ciclo proviamolo quindi vediamolo funzionare e poi ci leggiamo la timeline capito questo avete capito quasi tutto poi vabbè dobbiamo aggiustare appunto le questioni occhio a non fare il loop occhio a pulire quando avete finito eccetera però abbiamo sostanzialmente capito tutto quello che c'è da capire quindi quickgate usiamo il codice che avete visto quindi esattamente quello della slide lo mettiamo in app quindi sostanzialmente lo carichiamo ok quickgate salvo not fine inizialmente volevo scriverlo ma ci mettiamo troppo tempo se lo scrivo quindi va bene ci sono tutti questi warning ma appunto stiamo imparando e cioè dovremmo togliere i componenti in cui abbiamo messo gli effetti collaterali e non abbiamo messo bene le dipendenze eccetera ma l'abbiamo fatto apposta adesso quindi proviamo l'applicazione abbiamo aggiunto un pezzo il resto funziona come prima stop io qui non ho fatto niente adesso ci sono le stampe di prima ma qui non stampo niente vi faccio vedere come funziona io clicco su stop diventerà go e poi dopo 500 millisecondi cioè dopo mezzo secondo torno a stop clicco ok è tornato da solo su stop riclicco è tornato da solo su stop ok quindi guardiamo la slide questo è il funzionamento come funziona nel dettaglio la prima volta il component il che gate è creato e montato in app quindi si chiama la funzione la funzione cosa fa chiama la use state e quindi si crea uno stato questa è la prima volta vi ricordate col valore di default le altre volte non si usa più il valore di default use effect è registrata non eseguita semplicemente si dà questa funzione pronta ad essere eseguita quando la use effect deciderà dopo il virtual dome si ritorna il jsx che la prima volta ritornerà stop perché open inizializzata false come abbiamo visto il componente è montato ok allora a questo punto si fanno girare gli effect e la prima volta c'è solo uno use effect ha una dipendenza ma la prima volta gira comunque quindi si esegue il codice il codice esegue setTimeout e si imposta il timeout ok a questo punto non succede più nulla aspettiamo scade il timeout viene eseguito il codice della setTimeout il codice è un altro callback che fa setOpenFalse cambia uno stato no? quindi lo stato diventa false era già false non succede niente perché inizialmente non succede niente gira quella callback perché la prima volta gira ma non succede niente perché era già false lo stato è lo stesso e quindi il react non ha bisogno di richiamare il quickgate che ritorna un nuovo j6x perché? perché la funzione è pura a fronte dello stesso props e delle stesse stato deve ritornare alla stessa cosa se no abbiamo fatto qualcosa che non va bene nel componente quindi darebbe lo stesso risultato inutile farla girare a questo punto l'utente clicca abbiamo cliccato sulla scritta abbiamo scatenato non clicca che ha fatto setOpenTrue Open diventa True il componente fa il re-render perché react quando voi fate un set di uno stato fa re-render se avete variato il valore si ritorna jsx con scritto Go questa volta perché Open e True e a questo punto la useEffect trova che Open è cambiato rispetto al giro precedente e allora esegue la callback la callback esegue il setTimeout fine aspettiamo che passi il timeout il timeout è passato e il timeout esegue la sua callback setOpenFalse lo stato diventa false è diverso da prima e quindi il componente fa re-render e si torna nel caso precedente come all'inizio fa re-render react esegue la funzione ci ritorna il div eccetera con OpenFalse e quindi su Stop e poi la useEffect troverà che il valore di Open è cambiato perché prima era True e adesso è False quindi eseguirà setTimeout con questa callback passa in 500 secondi fa setFalse di nuovo come prima non c'è stato cambiamento di stato finisce tutto lì ok in questo caso non avrebbe avuto lo stesso effetto anche con un array vuoto come dipendenze della useEffect a causa del render dovuto allo stato funzionava con l'array vuoto funzionava la prima volta ma non funzionava le volte successive nel senso che se io metto l'array vuoto qui questo setTimeout funziona solo una volta cioè viene eseguito solo una volta che è la prima volta che ah senza array senza array senza array senza array gira tutte le volte dovrei pensarci un attimo penso di sì perché qui abbiamo solo due stati vero o falso quindi se ha girato vuol dire che ha cambiato stato e quindi dopo un po' bisogna riportarlo a falso e se era falso dopo tot lo rimette a falso comunque quindi sì perché ogni volta che aggiorna lo stato avviene il rand sì quindi in teoria sì teoria sì forse a volersi utilizzare se noi facessimo clic prima mentre è aperto no quindi prima che siamo passati 500 millisecondi dovremmo un attimo decidere cosa vogliamo che succeda in questo caso è lasciato un po' così ecco per questo che l'abbiamo fatto qui però diciamo non complichiamoci troppo l'esempio adesso perché poi avremo esempi un po' più complicati dove adesso questo diciamo così uno stupido click ma quando andiamo a caricare la roba da fuori quindi fare una richiesta sincrona di dati poi nello use effect non metteremo set timeout faremo un set dello stato per caricare i dati nell'applicazione e così via ok attenzione fate sempre in modo che nell'array si includano tutti i valori che di cui abbiamo bisogno nel senso bisogno di monitorarli perché sono usati nella callback altrimenti c'è il rischio che si referenzino valori vecchi dal render precedente ok ogni sostanza diciamo per per fare le cose per bene ogni valore referenziato dentro lo use effect deve anche apparire nell'array delle dipendenze se vogliamo che quello effect giri col nuovo valore aggiornato quando questo cambia ok altrimenti finisce che si prende il valore che aveva quando registrato la callback con una closure e non è detto che sia aggiornato come diceva il vostro collega prima occhio che se l'array include variabili che cambiano sempre quando si esegue l'effect creiamo il loop il ciclo infinito che cambia la variabile faccio girare l'effect mi ricambia la variabile rigira l'effect e vado avanti così all'infinito e react però vi avverte perché dopo un tot di giri vi dice c'è un problema e però poi l'applicazione non funziona quindi un problema di programmazione dovete sistemare c'è qualcosa che non va nella logica dell'applicazione arriviamo finalmente alla fetch quindi carichiamo qualcosa ok componente che carica qualcosa dalla rete sulla base di un'informazione che arriva come property per vedere al meglio il funzionamento della use effect poi poi magari l'applicazione che abbiamo noi è più facile non è detto che sia così complicata può semplicemente caricare i dati all'inizio potrebbe anche bastare diciamo questo è il caso più complicato che vi potrebbe capitare vogliamo un componente che carichi dei dati sulla base delle props che riceve per esempio la query cioè che dati devo caricare in questo caso carico gli impiegati li metto in uno stato perché poi non lo so li visualizzerò la lista i nomi qualcosa all'inizio lo stato un array vuoto quindi il div ha niente dentro ma devo caricare questi dati allora io scrivo è un effetto collaterale devo scrivere una callback dentro useEffect che mi consente di caricare i dati quindi callback quindi parametri freccia function fetch employee response uguale a fetch fetch dell'url questo è un url slash employee punto interrogativo query uguale va bene prendiamo la query la codifichiamo come parte dell'url ok risposta ci ritorna una promise abbiamo messo la wait per poter aspettare che la promise sia risolta se va tutto bene qui non abbiamo fatto il test è andato tutto bene abbreviamo un po' per riuscire a farlo stare sulla slide se è andato tutto bene spero sia un json faccio il parsing della risposta mi sa che si è messo un pezzettino di troppo bastava json va bene comunque facciamo il parsing del json e abbiamo l'oggetto che contiene l'array degli employee set employee che è il set di uno stato fine da fare una piccola attenzione non possiamo scrivere async qui davanti perché la use effect non vuole una funzione asincrona ma noi possiamo sempre crearcela dentro in javascript possiamo creare funzioni dove ci pare quindi anche dentro un'altra funzione e poi chiamarla direttamente async function e poi fetch employees che l'abbiamo appena definita questo si può fare da cosa dipende da query query che è una property spassata al componente quando gira questo effect gira la prima volta e tutte le volte che cambierà la query quindi se qualcuno ci passerà una query diversa lo faremo rigirare caricheremo di nuovo dalla rete quindi when props query changes the effect is run anche all'inizio e quando i dati sono disponibili si aggiorna lo stato come abbiamo fatto noi col timeout qui si aspetta la risposta dalla rete si aggiorna lo stato viene fatto il render e poi l'efect non verrà più chiamato perché finché query non ce lo cambiano non gira più cioè react non ce lo fa più girare ok qualcuno scrive quindi probabilmente query sarà uno stato proveniente dall'esterno giusto si probabilmente sarà così sarà che so magari preso da un menu del componente che ingloba fetch employees by query fammi vedere tutti gli come si chiamano gli employees i dipendenti attivi in servizio tutti quelli in pensione tutti quelli che hanno preso servizio da una certa data eccetera sarà qualcosa che ci arriva e probabilmente sarà uno stato di un form per esempio sì ok note questo ve l'ho già detto però mettiamo per scritto la callback di useEffect non può essere una funzione asincrona ma come visto nulla ci vieta di definirci una funzione asincrona dentro la callback e chiamarla subito subito nel senso chiamarla quando verrà eseguita e così possiamo usare l'highweight che ci piace tanto e tanto comoda quindi await fetch e await response oppure il den certo certo se ci piace più l'approccio den possiamo usare il den così non abbiamo bisogno della sync e non c'è da creare una funzione e chiamarla ma si può direttamente scrivere il codice certo quindi scrivere sostanzialmente aperta grass const response uguale fetch eccetera eccetera punto den punto den e andare avanti così senza nessun await la domanda di prima del vostro collega in attesa dei valori attenuti con la fetch come si potrebbe renderizzare una fase di loading quando lo stato è vuoto semplicemente usare due componenti in base al contenuto dello stato vuoto pieno sì 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 dobbiamo avere uno stato che ci dice se vogliamo visualizzare loading oppure i dati c'è più avanti nelle slide però è domanda interessante perché effettivamente è qualcosa che può essere molto utile lo vediamo tra poco che ora è sì ci stiamo dentro dunque questo dell'assync l'abbiamo detto questo è un ulteriore esempio diciamo che cosa può avere di diverso ok vabbè allo stato potete aggiungere diciamo altri stati per esempio i dati che arrivano possono essere usati impostati come altri stati adesso questo gira il testo la prima volta che l'ho visto non l'ho fatto io l'ho fatto questo l'ho fatto il professor corno l'ha trovato in giro è curioso come fa girare il testo vabbè ma noi diciamo c'è un modulino che con qualche trucchetto ce li gira nel senso che ci sono tanti caratteri che non sono solo i caratteri ASCII della tabella base fino a 255 ma in unico ad avete di tutto incluso molti caratteri e quindi ci fa semplicemente il mapping per girare cosa fa questo la proviamo con una nostra api quindi possiamo andarla a provare così la vediamo funzionare in pratica e poi ce l'avete anche quindi io ho il server che sta girando questo l'avevo messo qui no server js solo che l'ho aperto eccolo qua quindi c'era quel number vabbè che non abbiamo usato è il flip che fondamentalmente prende questo monolino flip text che ci esporta flip e ci manda indietro il testo dopo dopo un secondo ecco tra l'altro dopo un secondo per consentirci di vedere diciamo un po' di ritardo non è ben chiaro se quando viene triggerato un noise effect venga un rerender rinforzato anche se non sono variati di stati no no non viene triggerato nulla cioè rerender è indipendente rerender viene triggerato solo quando cambia la props o lo state cioè dobbiamo riferirci a questo disegno no cioè la use effect gira questo punto e gira quando il parametro della use effect dice che è il caso che giri punto quindi queste sono le regole per decidere quando gira non fornito sempre dopo ogni render quadre solamente una volta dopo il primo render lista ogni volta che cambia qualcosa nella lista ok il rerender capita in maniera indipendente è chiaro che se nella callback che passiamo alla use effect come stavamo facendo qui nell'esempio facciamo un set di uno stato scateniamo un render per forza perché a fronte di una set di uno stato react fa il render se lo stato cambia ma se lo facciamo di solito è perché lo stato è cambiato e quindi viene rieseguita la use effect viene cioè viene eseguita la use effect che registra di nuovo la callback ma la callback gira solamente sulla base della regola che abbiamo deciso noi che è indipendente dal fatto che si stia facendo il rerender o no cioè se ci fossero solo le parentesi quadre array vuoto non gira più dopo la prima volta qualsiasi set set state che facciamo set flipped set text se c'è un array di dipendenze gira solo se è cambiato rispetto a prima ok bene proviamo l'esempio quindi no devo attivarlo diciamo così quindi text flipper va bene devo importarlo devo rinominarlo salviamo questo è il server l'avete visto il codice questo si ho salvato no non ha salvato ecco ok arrivo alla risposta ve lo faccio vedere solo funzionare intanto chi vuole ecco avete visto che ci viene fuori l'orologio che è un simbolino che abbiamo messo giusto per provare scrivo qualcosa e mi gira diciamo così il testo vabbè possiamo vedere le richieste dirette poi arrivo dunque cancelliamo un po' ogni volta che cambio qualcosa mando una richiesta e dopo un po' dopo un secondo mi sparisce il simbolino dell'orologio e viene aggiornato il valore perché c'è il simbolino dell'orologio semplicemente perché io ho deciso che mentre sono in attesa di avere una risposta del server faccio vedere quello e come lo faccio con uno stato quindi il codice questo ah ecco qui ci ha messo il waiting che non abbiamo sulle slide ecco quindi però prima di andare avanti rispondo al vostro collega mentre invece mettendo il secondo parametro questo sarebbe un caso di loop infinito giusto dunque quindi dice se qui al posto di text ometto tutto vuol dire che la callback gira sempre e quindi mi fa un caricamento tutte le volte che viene fatto render e quindi mi fa un set flipped tutte le volte non so se se le fa il loop infinito perché se il valore non cambia perché altro non è un loop infinito di react ma è un loop infinito di caricamenti del server ok possiamo anche fare la prova penso che si possa fare vediamo di per sé se lo stato non cambia vedete non è che react ha protestato però questa affare qua sta continuando a caricare dal server per fortuna c'è il delay di un secondo quindi abbiamo fatto il loop infinito ma siccome lo stato non cambia non è un problema di loop di react perché react non fa render se lo stato non è cambiato e il problema è che continuo a fare richiesta il server ovviamente questa cosa mi raccomando l'esame non ci piace andiamo a metterla a posto quindi è chiaro che usare la use effect è probabilmente l'argomento più difficile del corso però bisogna imparare a usarla se quest'anno lo facciamo con gli ux quindi c'è la use effect l'anno scorso non c'era la use effect c'erano i metodi di life cycle ma comunque ce n'erano tre o quattro qui è tutto condensato nella use effect però comunque il problema bisogna saperlo gestire in generale della questione degli effetti collaterali ok quindi vi faccio vedere la versione che è la slide successiva forse dobbiamo un po' sbrigare dobbiamo sbrigarmi con il waiting il vostro collega diceva ma cosa facciamo mentre aspettiamo non possiamo fargli vedere qualcosa sì è stato fatto abbiamo usato uno stato addizionale uno stato diciamo così di servizio un boolean waiting set waiting che non contiene informazione vera e propria dell'applicazione il testo è un'informazione dell'applicazione la lista dipendente è un'informazione dell'applicazione il loading è uno stato di presentazione e quindi io nel momento in cui faccio fetch faccio set waiting false ok volendo avrei potuto farlo anche prima ma tanto non cambia niente perché siccome la fetch ritorna subito cioè o mi lascia mi lancia l'operazione in background e mi dà la promise quindi posso metterlo diciamo nella lista delle operazioni e ah no scusate questo è il forse ho sbagliato infatti è sotto il true quindi io ho creato la funzione poi faccio waiting true e e poi chiamo la funzione poi la funzione si blocca a questo punto perché ho messo await però intanto la fetch gira quindi carica del server poi quando ritornerà andrà avanti e eseguirà il resto del codice quando ha finito mi fa il false cambia lo stato react mi fa render e mi toglie il l'orologino che vedevamo prima nell'esempio perché perché semplicemente c'è questo pezzettino di jsx che non viene renderizzato se waiting è false ok e questo è proprio il meccanismo diciamo così classico per implementare un waiting uno stato di waiting visualizzato in qualche maniera qui c'è l'orologino potete scrivere loading potete fare quello che vi pare e potete anche non mostrare il contenuto mentre c'è loading tipo negli esami non c'è niente da mostrare finché non ho caricato qualcosa non c'è niente da mostrare questo era un po' più dinamico perché a fronte di ogni click e quindi di cambiamento nel form io mandavo la richiesta al server e avevo da attendere la risposta del server tra l'altro questo è lo stesso meccanismo che usa google google non è usare act ma al principio è lo stesso cioè cambiate un qualcosa all'interno del form della casella di ricerca e lui va a fare la richiesta al server e gli dà una risposta con le possibilità lo fa molto velocemente è più veloce che può il browser è abbastanza rapido da cambiare la visualizzazione una volta che ha la risposta però è lo stesso identico meccanismo giusto per curiosità diciamo google com apriamo network vabbè a parte che lui fa un po' di cose nel frattempo in più però se io scrivo a b c vabbè non le vedete così in chiaro e tutto quanto però insomma questa roba qua viene fuori dalle varie richieste che fa verso il server ecco ci sono quelle json che forse ovviamente c'è il suo formato si è definito le cose per conto proprio però è lo stesso meccanismo è lo stesso principio che stiamo usando noi nella nostra applicazione c'è una domanda che mi dice non mi è ben chiaro perché prima togliendo il text si crea un loop infinito di richieste perché se tolgo il text la use effect viene eseguita sempre ad ogni render il render viene scatenato da ogni no si dice si dice ah perché si perché prima avevamo il set perché avevamo il set waiting ok effetti è vero grazie se togliamo il set waiting eh chissà vabbè prendiamo questo riped eh vabbè adesso devo commentare vabbè se facciamo così lasciamo questo effetti è vero mi sa che se lo proviamo ricarichiamo l'applicazione giustamente ha ragione sì non dovrebbe succedere solo ogni volta che cambia il testo ha ragione ragionissimo bravissimo solo che non crash perché il timeout non rileva il loop dice che sia il timeout eh andiamo a modificare questo è il file giusto sì eh ah dice se a causa il timeout non rileva il loop allora faccio save devo siccome non l'ho lanciato col node mon devo andare a rilanciarlo rilancio l'applicazione che mi dice perché in teoria era rendering e di react che richiama in loop la use effect eh però sì richiama in loop la use effect non capisco cosa vuol dire richiama in loop cioè richiama la use effect alla fine di ogni render ma il fatto che se io faccio dunque carico con la fetch però se poi una volta che ho settato il testo nessuno mi fa fare a re-rendere cioè il prossimo re-render ce l'ho quando l'utente scrive nel form non è che ho potrebbe anche essere dovuta la flipped text che cambia lo stato flipped set flipped set flipped eh però fetch flipped però la fetch flipped scambia text ok ok e quindi non capisco cosa vuol dire se con la fetch flipped qui c'era text no e quindi facciamo set flipped nel senso nel senso che react aggiunga il componente ad ogni cambiamento di stato e avvia la use effect che a sua volta cambia lo stato e ricomincia a ciclo non mi spiego come è un crash react nel senso come non rileva questo aggiornamento continuo eseguendolo non si esegue alla fine la set flipped e quindi causa un re-render a set flipped causa un re-render ma poi ma poi una volta che che ha fatto ha causato re-render ha mostrato il flipped poi si esegue questa ricarica fa set flipped lei dice dovrebbe continuare a caricare se non mettiamo se non mettiamo la dipendenza quindi al massimo ci torniamo sopra la prossima volta visto che il tempo sta sta per scadere ora componenti possiamo guardarci i componenti state e ah vabbè la feccia aggiorna lo stato con un riferimento di una variabile diversa ma uguale nel contenuto quindi il react non pensa che sia un loop sì si mi imposta il flipped e ne va nella dipendenza su text questo non va in un loop sì lo stato non cambia questo sì lo stato non cambia però questo rigira tutte le volte quello che non mi spiego perché non ah no non rigira perché non non far rendere perché lo stato non cambia no quindi come dice l'ultimo che ha scritto lo stato non cambia quindi per questo non va il loop perché perché la use effect gira solamente a fronte di un re-rend ma se lo stato non lo facciamo cambiare lo stato cambia solo se il server risponde ma il server risponde solo quando cambia il testo sì solo quando cambia il testo sì solo quando cambia il testo perché abbiamo messo text ok vediamo solo di concludere visto che siamo e 30 ok mi spiace se dovete scappare per un'altra lezione e c'era solo ancora due o tre cosette e poi chi sta in line volentieri possiamo guardare ancora qualcosa la prossima volta bisogna non abbiamo parlato solo più di una cosa che è far pulizia alla fine la callback che passiamo può anche ritornare qualcosa e quello che ritorna deve essere una funzione se è una funzione la use effect la usa per fare pulizia quando il componente viene smontato quindi la cosa è molto semplice dopo aver smontato il componente use effect invoca la funzione che è stata passata come funzioni pulizia questo serve per sganciarsi da eventuali subscription o cose che sono state fatte quindi in realtà è invocata tutte le volte ma se diciamo per esempio lo facciamo solo all'avvio con l'array vuoto questa viene invocata solo al momento in cui si smonta il componente quindi questo è il sommario di tutto i tre modi più la pulizia che possiamo usare per la use effect quindi l'array vuoto solo all'inizio niente tutte le volte dipendenze solo quando cambia le dipendenze più l'inizio e poi per fare pulizia ci sono altre funzioni per gestire situazioni più complicate ma noi non le vediamo non abbiamo tempo life cycle è una cosa ancora più complicata non dovremmo averne bisogno nei nostri esercizi e quindi non c'è bisogno di se ci sarà bisogno le tireremo fuori ma non credo fortemente di no ecco l'ultima cosa non so se ci stiamo diciamo proprio due parole dobbiamo poi ragionare ma la prossima volta lo facciamo con più calma su dove mettere gli stati no? a noi interessa soprattutto la stato dell'applicazione no? e dobbiamo capire un attimo lo stato dell'applicazione dove sta sta nell'applicazione stessa sta sul server e ogni tanto dobbiamo ricaricarlo come facciamo a tenerli sincronizzati eccetera sono tutte questioni importanti che però tanto non abbiamo affrontato qui sulle slide no? l'unica raccomandazione che mi sento di darvi e con questo chiudo è che dobbiamo mantenere i metodi fetch possibilmente in un modulo separato ma perché per avere un po' più di pulizia nel codice perché se incominciamo a mettere URL nel bel mezzo del codice delle callback di useEffect dentro i componenti non ci capiamo più niente solo per questo e ovviamente la modularità ha tutti i suoi vantaggi quindi per esempio potremmo far finta nel modo di fare un return senza che neanche abbiamo il server e riusciamo comunque a far funzionare la nostra applicazione senza neanche un server solo per provarla quindi questa è diciamo l'architettura sulla quale andremo a ragionare la prossima volta adesso abbiamo il useEffect e qui che con il useEffect sostanzialmente siamo in grado di usare la fetch avremo questo se abbiamo uno strato di API che isola da un po' i componenti e da tutto il resto dove mettiamo le fetch e tutto quanto è la cosa migliore ma la prossima volta lo facciamo lo facciamo con un esempio il nostro solito esempio dei discorsi ok quindi adesso mi guardo con calma questo esempio e la prossima volta arrivo con una risposta più precisa secondo me è dovuto al fatto che comunque usiamo due stati di fatto per mantenere l'informazione e quindi appunto non va in lupo vabbè me lo guardo con calma e ne parliamo la prossima volta se avete dubbi o domande volentieri rispondo se no appunto visto che sono passate l'11.30 temo che sicuramente avrete altre lezioni non voglio trattenervi oltre e quindi dunque ci vediamo lunedì decidiamo come sempre il giorno prima purtroppo cosa fare sulla base del numero di iscritti al laboratorio in presenza vedremo un attimo come fare anche perché poi il mio collega va a fare il vaccino quindi il richiamo quindi non non so se lunedì ci possa essere se no ci sarò io insomma comunque in qualche modo faremo e vi farò sapere su Slack ok non vedo altri altri dubbi e domande su Slack quindi direi che possiamo terminare qui e ci vediamo quindi ci sentiamo su Slack e ci vediamo lunedì grazie a tutti grazie grazie grazie